buongiorno per tutti il giorno e bentornati sul mio canale per un nuovo video in cui studieremo le domande e le risposte di cultura generale per il concorso inps iniziamo subito come si chiamava la nave da battaglia britannica su cui il presidente degli stati uniti Franklin Roosevelt e il premier britannico Winston Churchill si incontrarono e fissarono nella carta atlantica i principi di una politica comune contro le barbare naziste il 14 agosto 1941 la risposta da dare è HMS Prince of Wales come si chiamava l'oppositore del governo di Mussolini deputato socialista che nel 1924 fu rapito e assassinato la risposta da dare è Giacomo Matteotti come si intitola il libro che narra le memorie di Marco Polo la risposta da dare è il milione come si ottiene la somma di due numeri discordi la risposta da dare è si sottraggono i loro valori assoluti e si scrive il segno dell'addendo che ha valore assoluto maggiore come sono denominati i pantaloni sportivi riproposti negli anni 60 e 70 lunghi fino al ginocchio e lì fermati da un bottone o da una fibbia capo tipico degli uomini del diciottesimo secolo la risposta da dare è Kniker Booker come sono denominati i servizi segreti israeliani la risposta da dare è Mossad come sono disposti in aula i membri del parlamento europeo la risposta da dare è suddivisi in gruppi politici come Talleyrand riuscì a salvaguardare l'integrità territoriale francese la risposta da dare è sostenendo che l'equilibrio in Europa poteva essere mantenuto solo garantendo alla Francia integrità territoriale come termina la divina commedia con un finale positivo la risposta da dare è Dante raggiunge la contemplazione di Dio come vengono detti anche i globuli rossi del sangue la risposta da dare è emazie come venne chiamato il patto firmato da Italia e Jugoslavia il 12 novembre 1920 la risposta da dare è patto di Rapallo come diviene definito il meridiano passante per l'osservatorio astronomico di Greenwich presso l'Ontra la risposta da dare è meridiano zero come viene denominato il dipinto su tavola di legno di un soggetto sacro tipico dell'arte bizantina la risposta corretta da dare è icona come viene detto l'indice della borsa di Parigi la risposta da dare è cac40 come viene detto l'insieme delle situazioni meteorologiche che vengono registrate quotidianamente in una determinata area geografica la risposta da dare è tempo atmosferico come era conosciuta anche la repubblica sociale italiana fondata da benito mussolini nel 1943 completamente asservita ai nazisti la risposta da dare è repubblica di salò come era soprannominato il generale nazista erwin romel dalla propaganda tedesca durante la seconda guerra mondiale la risposta da dare è la volpe del deserto completare con il pronome personale adatto alla frase quante fette di carne hai mangiato ho mangiato due la risposta da dare è ne ho mangiati due completare la frase vuol dire i puntini non si impegna sarà bocciato la risposta da dare è chi completare la frase se avessi voluto dirmi di no puntini puntini fallo senza problemi la risposta corretta è avresti potuto completare la frase il saggio da un esperto in materia la risposta corretta è stato scritto comune ai poeti che furono quei detti ermetici e fra i quali vanno annoverati ungaretti quasimodo gatto sinisgalli luzzi bigogiari eccetera era la risposta da dare è l'ansia di restituire alla parola parola poetica la sua originaria carica espressiva ormai perduta nell'ogorio di una lunghissima tradizione letteraria la ricerca cioè di una poesia pura libera da ogni intenzione che si manifestarsi fuori dalla poesia stessa con patto dell'arancino si intende l'accordo politico tra la risposta da dare è berlusconi meloni e salvini con 2476 metri di altezza come si chiama il monde più alto della regione marche che fa parte dei monti sibillini la risposta da dare è monte vettore con che nome è conosciuto il maggiore partito politico shiita libanese la risposta da dare è ezebollah con circa un milione e duecentomila abitanti censimento 2016 incluso all'argomberato urbano qual è la capitale della rimarca la risposta corretta da selezionare è copenhagen con circa 975 mila abitanti napoli è una delle città più popolate d'italia a livello nazionale quale posto occupa nella classifica la risposta da dare è terzo dopo roma e milano con i patti lateranensi la risposta da dare è mussolini riconosceva l'indipendenza territoriale del vaticano con i seguenti dati quantità q 140 spesa unitaria su 58 euro guadagno unitario gu 38 euro calcolare spesa totale st ricavo totale rt ricavo unitario ru guadagno totale gt allora non potendo fare i calcoli con carta e penna poiché concorsi verranno fatti su un tablet la risposta corretta è st 8 mila 120 euro rt 13 mila 140 euro ru 96 euro gt 5320 euro con i seguenti dati ricavo totale quantità 5 ricavo totale 1200 euro spesa totale 540 euro calcolare ricavo unitario guadagno totale ricavo totale non potendo fare i calcoli con carta e penna poiché avremo i tablet durante il concorso la risposta da dare è ricavo unitario 240 euro guadagno totale 660 euro con i seguenti dati quantità 5 ricavo totale 600 euro spesa totale 400 euro calcolare guadagno unitario guadagno totale allora la risposta corretta è guadagno unitario 40 euro guadagno totale 200 euro con i seguenti dati quantità 6 ricavo totale 345 euro spesa totale 315 euro calcolare spesa unitaria guadagno totale la risposta corretta è spesa unitaria 52,5 euro guadagno totale 30 euro con i seguenti dati quantità 7 ricavo unitario 25 spesa unitaria 46 euro calcolare ricavo totale perdita unitaria la risposta è ricavo totale 175 euro perdita unitaria 21 euro il video di oggi termina qua per vedere altri video per continuare la preparazione a concorso INPS iscrivetevi al canale e attivate la campanella INPS iscrivetevi al canale INPS iscrivetevi al canale INPS iscrivetevi al canale